18 maggio 2021 il potere di gesù è la scelta degli uomini dal vangelo secondo giovanni capitolo 17 in quel tempo gesù alzati gli occhi al cielo disse padre è venuta l'ora glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifichi te tu gli hai dato potere su ogni essere umano perché gli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato questa è la vita eterna che conoscono te unico vero dio e colui che hai mandato gesù cristo io ti ho glorificato sulla terra compiendo l'opera che mi hai dato da fare e ora padre glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo erano tuoi e li hai dati a me ed essi hanno osservato la tua parola ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato io prego per loro non prego per il mondo ma per coloro che tu mi hai dato perché sono tuoi tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie io sono glorificato in loro io non sono più nel mondo e se invece sono nel mondo e io vengo a te la ribellione degli uomini fin dall'inizio ha costituito il mondo come lo conosciamo il mondo è l'ambiente sulla terra costruito dagli uomini dalla cultura le società le nazioni la scienza la tecnologia i valori condivisi o conflittuali il mondo è ciò che gli uomini hanno messo in piedi sulla terra senza dio o senza la conoscenza vera di dio della sua volontà il mondo non ha potere di salvare se stesso dai conflitti e dalla morte gli uomini non hanno la possibilità di entrare nella vita eterna ovvero lo stato di perfezione dell'esistenza che vince il male e la morte da questa situazione dio padre desidera salvare gli uomini e portarli a sé non meritiamo la salvezza e se un puro atto di misericordia di dio su di noi domino l'oscurità delle cose spirituali per il fatto che il peccato ci ha privato dello spirito di dio donato all'inizio della storia umana il demonio ha fatto questo e ora noi siamo prigionieri della sua oscurità poiché il suo spirito di menzogna ha coperto la verità il peccato la tendenza al male l'egoismo la violenza la perversione dominano nella nostra carne da esseri perfetti e armoniosi con lo spirito di dio siamo diventati deformi e minorati resi più simili alle belve che non agli angeli la parola di dio ci dà la possibilità di comprendere in quale stato ci troviamo di aderire alla sua offerta di uscita e quindi di essere purificati dal male il dono dello spirito ci dà la possibilità di essere guidate da dio illuminati nella mente resi puri nella volontà di scegliere il bene e di rigettare il male dio ha dato tutto il potere al figlio gesù cristo su ogni uomo per salvarlo dalla morte nonostante la malvagità gesù ha il potere immenso su tutte le creature e su tutto il creato in lui si riversa tutta la grazia del padre a beneficio degli uomini ma noi che ci troviamo accecati dalla vista solo materiale e facciamo fatica a comprendere le cose del cielo stentiamo a credere e consideriamo le cose con le prospettive che il mondo insegna così da quella prospettiva il sacrificio di cristo diventa fallimento di una pretesa di corsa alla regalità la sua grandezza pare vinta dal mondo che esprime il suo potere fatto di interessi menzogne prevaricazioni e violenza il mondo sembra aver vinto il cristo e le prospettive che offre non sono all'apparenza appetibili ci chiede la solidarietà con la sua croce per passare oltre il mondo ci chiede di morire a noi stessi per fare un salto nello spirituale ci chiede di rinunciare e rinnegare noi stessi che è l'unica cosa che ci sembra di possedere e di vedere la vita è poca cosa ma è l'unica che possediamo almeno così ci pare e lasciarla andare proprio non ci attira la potenza di dio espressa da gesù cristo sembra svanire ci offre il suo patire le ingiustizie del mondo e non vediamo la sua potenza egli invece dice io ho vinto il mondo la sua risurrezione l'ha dimostrato ai credenti ci promette alla stessa dimensione di eternità morendo al peccato e a noi stessi e lasciandoci trasformare in nuove creature la scelta per ognuno di noi è dunque quella di fidarci della sua parola e della sua risurrezione di ascoltare il suo spirito di sentire la sua forza vitale scorrere in noi per rinunciare alla menzogna di questo mondo la scena illusoria il mondo ha potere per il fatto che glielo concediamo con la nostra appartenenza ma se viviamo nel mondo senza essere del mondo perché abbiamo lo spirito di cristo allora anche noi vinciamo il mondo e riusciamo a fare il salto della vita eterna la morte non si spaventa perché diventa ingresso nella gloria di dio la vera radice del nostro essere dio vi benedica grazie 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 grazie